Oggi abbiamo installato per la prima volta in Italia il nuovo inverter ibrido per batterie a bassa tensione a marchio LG Energy Solution dai 6 kilowatt, ibrido per batterie LG Energy Solution a 48 volt. In particolare oggi abbiamo installato una batteria da 6.5 kilowattora. In questo modo il cliente può beneficiare di un sistema a marchio LG sia per quanto riguarda la parte batteria che per gli inverter. Due sistemi ottimizzati per lavorare assieme, un beneficio sia di prestazioni che di assistenza nel lungo periodo. Garantiamo al cliente il sistema completo con la nostra assistenza tecnica italiana e per 10 anni. Ciao sono Virginia e io sono Luca. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui ad Adria a casa nostra il team di Soladria che ha installato insieme ai tecnici di LG il primo inverter LG in Europa. In sicurezza, velocemente, con competenza, efficienza. È stato un piacere soffrire del loro team, sia di LG che di Soladria. Abbiamo scelto Soladria perché è una realtà del luogo, è una risorsa per il territorio. Ci hanno consigliato LG perché è un prodotto nuovo sul mercato e non abbiamo avuto dubbi sul seguire i consigli. Soladria ormai sono anni che è top installer di LG. Ci troviamo bene, abbiamo visto qualità, abbiamo sempre avuto risposte anche quando si parla di servizio tecnico. Quando LG ci ha parlato del nuovo inverter, che stavano progettando, abbiamo chiesto espressamente di poter essere noi a provarlo, a testarlo in Italia. Oggi siamo qua, difatti, a fare la prima installazione, non solo in Italia, ma addirittura in Europa. Un SLH 060, quindi un inverter da 6 kilowatt, che noi stiamo installando su un impianto da 6 kilowatt, composto di moduli monocristallini. L'inverter è un low voltage, quindi un bassa tensione e ci abbiamo addirittura abbinato anche una batteria di accumulo. Quindi oggi stiamo finendo un ciclo completo, quindi impianto fotovoltaico completo di batteria. Siamo contenti di questa opportunità che ci sta dando LG. Credo potrà essere utilizzato non solo da Soladria, ma nel mercato da tantissime aziende, questo tipo di inverter, perché c'è l'abbinamento con tante batterie. C'è la possibilità di allacciare due batterie anche di dimensioni diverse all'inverter. Il fatto poi di scegliere un unico inverter e usarlo come ibrido, quindi poterlo utilizzare direttamente sugli impianti fotovoltaici abbinati a batteria, oppure anche utilizzarlo come inverter in AC e quindi per rendere un impianto senza batteria, dotarlo di accumulo, sarà molto facile con questo tipo di inverter. Abbiamo la sua applicazione, il monitoraggio, credo abbiano fatto centro. Oggi abbiamo avuto modo di verificare la facilità di installazione, davvero plug and play. A fine installazione il cliente finale ci ha fatto davvero i complimenti non soltanto per gli aspetti tecnici e per la velocità di installazione del sistema, ma anche per il suo aspetto estetico. Infatti sia la batteria che l'inverter hanno il medesimo design. Il sistema può essere monitorato direttamente da una app sul cellulare del cliente o attraverso un sito web. Caratteristica importante dell'inverter e soprattutto dell'app è che trattandosi di un unico inverter ibrido, noi possiamo monitorare sia l'impianto fotovoltaico che la batteria, quindi stessa applicazione. Noi abbiamo clienti di vario tipo, quindi abbiamo bisogno di dare qualcosa di facile ai nostri clienti. In questo caso l'ho vista l'app, l'ho vista tantissime altre, è qualcosa di facile, intuitivo e che permetterà ai nostri clienti non solo di vedere la produzione, non solo di vedere anche l'accumulo, ma controllare anche i consumi e quindi misurare lo stile di consumo interno per cercare il risparmio massimo. Grazie a questa app potremo avere questo monitoraggio dettagliato che ci permetterà sicuramente di risparmiare nella bolletta. Il mercato italiano quest'anno proprio ha sorpassato il milione di impianti fotovoltaici installati. Ciò vuol dire cosa? Vuol dire che la sensibilità verso l'ambiente, ma credo anche verso il risparmio, sta aumentando tantissimo in Italia. Avanti così che otterremo grandissimi risultati tutti e risparmieremo tantissimi toglie di energia.